Ma il ponte le piace? Bello, bello, piace, a me piace. Con il fondo di quello di prima è molto bello. Mi piaceva vedere il montaggio. Lo proveremo in bicicletta adesso mercoledì, dato che sono in ferie. Per me è un bel lavoro. Sono arrivato adesso, comunque mi sembra a livello estetico, adesso funzionale non lo so, però a livello estetico sembra bello, insomma, vedere, riprende un po' anche il ponte che c'è di là, che va al Lido, quindi come forma, come tipologia. Quindi a vederlo da così, da fuori, adesso sembra una buona cosa, insomma. Poi vediamo anche la funzionalità. Le piace? Il ponte è bellissimo, molto meglio di quello che c'era prima. Sì, sì, era ora, serviva proprio. Però non andiamo mai da quella parte, molto di rado. Però dobbiamo andarci perché è la prima volta e vediamo come resiste. Bellissimo, tutto a posto, meno male. Pensavamo prima, però meglio tardi che mai. Noi veniamo da Milano, perciò sapevamo tutto l'interburocratico doveva essere fatto, poi non c'è stato fatto. Il ponte c'è, il ponte non c'è, via internet. Comunque siamo contenti. Appena è arrivato oppure ha già visto questa mattina la posa in opera? Lo guardo adesso, lo guardo adesso. Bello. Le piace? Sì, finalmente l'hanno sistemato. Speriamo che stia su, ma vedo che è robusto. Un parere positivo o negativo? No, positivo, positivo. Ecco, lei che è maestro carrista, quindi è anche un amante dell'arte. Che cosa ne pensa? Cioè è buono, valido, anche perché mi sembra che sia molto più ampio rispetto all'altro, ma anche esteticamente, insomma, dà un certo risolto, diciamo, alla zona. Il colore che è stato scelto? Il classico bianco? Il bianco va bene dappertutto, quindi voglio dire va bene, va bene. Vedo che anche lei sta ammirando il ponte, le piace? Meglio di prima, meglio di questo sì, sicuramente. Quella che mi ha un po' arrabbiata, perché sono ciclista, capite? La ciclabile non mi piace. Quindi lei dice adesso che è il ponte, però bisognerebbe lavorare con un po' di continuità con la ciclabile. Sì. Comunque intanto il ponte è ok. Il punto va bene, solo che i tempi, però, non sono idonei. Le dice non d'estate, non in agosto. Non fa farlo prima d'inverno. E è venuto qua proprio per ammirarlo e scattare la prima foto da pubblicare sui social o per ricordo? No, tutte e due, per ricordo, per il quartiere, per i cittadini, per tutti. Ricordiamo anche, diciamo, qual è il suo quartiere? Arzilla Gimarra. Da residente, le ha creato disagio questa operazione oppure no? No, a me personalmente no. Quindi anche se è stata effettuata ad agosto non ci sono stati problemi? No, perché è già finito, diciamo, devono solo fare il marciapiede e basta. Sono stati veloci? Sì, 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 sì. Poche ore hanno risolto il problema. Vi piace? Non vi piace? Siamo venuti a vederlo, appunto, è bello, bello. Speriamo che duri. Dicono cent'anni. Lei che cosa ne pensa? Speriamo. Dopo non ci sono noi, quindi va bene. Intanto lei che cosa ne pensa? Esteticamente piace la struttura? È molto bello, lo trovo svettante, con una linea bella, moderna, pulita e anche coordinato con l'altro ponte sul canale. Quindi veramente una bella scelta. Possiamo dire che intanto ha passato l'esame? Eh, direi sì, ormai. Grazie. Grazie.